La Cina fa paura e l'inflazione è lontana anni luce dal suo obiettivo del 2%. Per questi motivi la Federal Reserve ha deciso che i tassi di interesse, vicini allo zero da sette anni, possono rimanere là dove sono, almeno per un altro mese. Il rischio, ha detto Janet Yellen, è quello di mettere in pericolo un rilancio economico che ancora non convince. La ripresa dalla grande recessione è avanzata a sufficienza e la spesa interna pare abbastanza robusta, ha affermato la presidente della Fed. Ciò nonostante alla luce delle accresciute incertezze all'estero e di una prevista dinamica inflazionistica leggermente più debole, il direttivo ha giudicato appropriato attendere maggiori conferme di un rilancio economico. Un rinvio che piace agli analisti, visti i timori per il rallentamento della Cina, elemento questo esplicitamente menzionato da Yellen, il che ha spinto i maligni a parlare di una sorta di ingerenza nella politica della Banca Centrale Americana. L'elemento da sottolineare nel discorso di Janet Yellen è la sua connotazione internazionale. Sembra prestare più attenzione all'economia mondiale di quanto sarebbe permesso dal suo mandato, i cui obiettivi sono in primis la stabilità dei prezzi e la piena occupazione. I membri del comitato direttivo sembrano includere sempre di più ciò che accade a livello internazionale nelle proprie decisioni di politica monetaria. Senza contare un'incertezza di fondo sulle prossime mosse, ora si parla di un primo rialzo dei tassi a ottobre o più probabile a dicembre. Ma i membri del direttivo sono tornati a dividersi e i mercati europei hanno reagito aprendo in rosso.